Molto spesso si sente parlare dei cosiddetti viaggi della speranza, persone costrette ad emigrare in altri luoghi per curarsi rispetto alla città includita. In occasione del quarantesimo anniversario il Servizio Sanitario Nazionale deve andare in conto ad un miglioramento, perché il diritto alla salute è un diritto importante, senza distinzioni territoriali. Per questo io sostengo Cittadinanza Attiva nella sua proposta di modifica dell'articolo 117 della Costituzione, perché la salute è uguale per tutti.